Posso chiedere una faccia? Grazie Sono nascito con i miei genitori che mi raccontavano sempre il genere Spero bene Sì, benissimo Ma infatti c'è mio padre in giro che sta correndo per venire qua ma non so dove si ha finito Vieni, vieni Però vuoi chiedere, faccio quel mio, Matteo? Mi può andare in giro più fuori? Sì